Antonio Nigro, eccolo qua, vicino al suo main sponsor, lo vuoi ringraziare prima di partire giustamente alla gara? Ciao Renato, sì, ovviamente è doveroso ringraziare il mio sponsor ufficiale GGEP, nella persona di Francesco Veropo che devo ringraziare, perché comunque con il suo contributo ti dà una grossa mano, prospettive per questa gara? Sicuramente quello di cercare di fare il meglio, il meglio e divertirsi, d'accordo, grazie Antonio! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!